Sono Presetta, in concorso al Festival di Cannes. Faccio nome, Bouchette. Il primo pentito, il primo terribile colpo alla mafia. Sto a fuoco, non è lo più amante, c'è il suo nome, non è bastato. Scriveva un video prima, non è lui. Il traditore, un film di Marco Berlocchio, dal 23 mato al cinema. Garaitana, bravo. Garaitana, bravo.